ciao a tutti da luca css proseguiamo da qui il nostro nuovo video andiamo a vedere dove riusciamo ad arrivare abbiamo tolato la chiave ci ha corso con il argomero dietro spaccarci le rotule siamo tornati praticamente nella parte iniziale del gioco la musica si fa davvero interessanti un altro malefico che c'ha a coltellato misteriosamente salvato da questa porta oscura perfetto vamo la il nostro a coltellatore fatto a pezzi da questa porta oscura noi praticamente ormai siamo moriboli io sto andando fuori verso la luce ma francamente non so neanche io se questo mi porterà alla morte morte quasi certa oppure verso la felicità andiamo a vedere vabbè verità c'è anche la macchina perfetto bene finalmente ci andiamo a fare un bel giro perfetto 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 no la telecamera non mi serve ragazzi perfetto ok perfetto 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 agente 47 agente 47 agente 47 agente 47 agente 47 ok siamo arrivati alla fine del gioco inaspettatamente così ok siamo arrivati alla fine del gioco inaspettatamente così è finito senza senza nessun tipo di sussulto per conto mio gioco questo DLC che mi ha divertito giocandolo sinceramente ma non mi ha lasciato nulla nel senso che credo che rigiocabilità pari a 0 ovviamente da un DLC non è che ci si può aspettare 20 ore di gioco però mi aspettavo un finale diverso tutto qua e poco da fare quindi credo che ogni commento sia comunque relativamente superfluo questo è stato il gameplay di Outlast whistleblower il primo DLC uscito non credo che sarà l'unico comunque noi siamo riusciti probabilmente a scappare con la Jeep da questo posto pieno di mistero pieno di quindi di di male radicato in questa struttura che ha visto protagonisti sia nel primo episodio tutte le vesti di un giornalista e qui e qui in questa altra situazione che almeno se non altro riusciamo a forse scappare per 9 euro direi che si può comprare il gioco ci sta e farsi una bella partitina per qualche ora ok direi che ci possiamo salutare qui e questo gameplay è stato velocissimamente corto un finale davvero scontato per quanto mi riguarda magari c'erano alcuni documenti da recuperare nello scantinato non so io mi sono orientato verso la luce sono uscito e buonanotte ai suonatori ok volevo vedere se questo lungo elenco di ringraziamenti e titoli di coda perfetto vediamo un po' se c'è sbloccato qualcosa poi ci salutiamo niente perfetto nuova partita niente di che continua poi il gioco riparte da dove noi abbiamo salvato ciao a tutti da buc css ciao ciao ciao